Altra arma, lo dico con questo tonno perchè non potete capire quante cazzo siano Questa la vincete dopo che aiutate l'operatore di 9S a fare delle ricerche E ve la invierà come regalo Alla fine anche questa si chiama calibro 40 Quindi ormai distinguerle è impossibile Solo che con 2B sbloccate la versione leggera, arma leggera Questa è l'arma pesante Onestamente è carina, c'è una bella mannaia E niente ecco come vince l'arma calibro 40